4 dicembre 1927. A Palazzolo della Stella, in provincia di Udine, nasce Gaetana Aulenti, nota come Gae. Nel 1954 si laurea in architettura al Politecnico di Milano, dove poi insegna alla Cattedra di Composizione Architettonica di Ernesto Nathan Rogers dal 1964 al 1969. Collabora con diverse riviste di arredamento e design, come ad esempio Casa Bella, Continuità e negli anni 60 diventa designer industriale per aziende come la Zanotta, la Martinelli Luce, l'Olivetti e la Fiat. I progetti architettonici che rendono Gaetana Aulenti famosa nel mondo sono per lo più legati alla costruzione, alla riconversione o all'allestimento di grandi musei europei e americani. Fra questi spiccano il Museo Nazionale d'Arte Catalana di Barcellona, il Museo d'Arte Asiatica di San Francisco e la trasformazione della Gare d'Orsay di Parigi nel Museo d'Arte. Gaia Aulenti è morta a Milano il 1 novembre 2012.